Non mi dà fastidio, è chiaro che se uno vuol fare i 50 quintali per ettaro da questo campo non li potrà mai fare Ma forse non servono neanche Però la natura è questo che ti offre, voi vedete anche la tonalità di verde? Sì Un seminativo con l'azoto artificiale, vedete qual è la tonalità di verde? Sì Questa tonalità di verde è diversa da quella tonalità di verde Però tenete conto che se abbiamo anche un tempo che non mi piove più per esempio Quello andrà in sofferenza Questo no Questo no, quello subirà la stretta Cioè il chicco che mi rimarrà striminzito E la pianta morirà prima che finisce il suo ciclo Quindi prima che nutre completamente quel seme Questo invece comunque porterà a formare la cariossida nutrita Non con il fenomeno della stretta Chiaro? Chiarissimo